Il risultato di mantenere è di aumentare l'avviabilità di asset, minimizzare le inspecchie servizie e evitare l'unità necessarie di stop e spazio di spazio. Questo approccio di mantenere flessibile può essere applicato anche su motori e auxiliarie, quando collegati al network, e può assicurare tanto il tempo e il risultato di costo. I intervalli di mantenere statiche non maximizzano i componenti del tempo e non possono evitare l'aspirazione. La analizzazione di trend ci permettono di capire se è necessario anticipare o se è possibile postponare, per esempio, i componenti di ricordazione o il risultato. In collaborazione con gli esperti di supporto tecnico dal centro, studiiamo i parametri di trend, come l'inlet-noutlet-temperature on-heat exchanger, o il risultato dei filtri di pressione, e diamo il risultato per il miglior timing del prossimo servizio. I nostri consigli sono collegati in un plan di mantenere quotidianamente e condividi con i clienti e i clienti. Grazie a tutti. Grazie a tutti